buongiorno a tutti allora giubbino tutina chiamatela come volete di sergio tacchini da benzinaio perché dobbiamo parlare del gran premio del portogallo moto gp e quindi bando alle ciance ciancio alle bande perché sarà una bella gara andiamo a vedere cosa è successo subito al primo giro un bellissimo primo giro con un market per ora competitivo che si gioca al podio in quarta posizione in testa c'è zarco poi rins e mir ma mancano 24 giri comunque la classifica dopo il primo giro vede zarco primo rin secondo miller terzo un buon mark marquez al quarto posto bello arrembante al quinto posto c'è miller al sesto quartararo o quartararo al settimo morbidelli all'ottavo alessi spargarò al nono binder e al decimo ales marquez il fratello di mark marquez che forse col fatto che c'è il fratello un attimino più arrembante anche lui a 24 giri dalla fine toccatina di marquez su mir e quartararo ringrazia e si prende il quarto posto beffandosi a marquez che miller a sua volta quest'ultimo passa anche lui il povero mark marquez che chi la fa come si suol dire l'aspetti non che abbia fatto apposta però ha toccato la gomma di di mir dietro c'era quartararo loro si sono disuniti un attimo quartararo gli ha beffati all'interno gli ha detto ciao ciao grazie io mi prendo il quarto posto a 22 giri dalla fine quartararo in fila anche mir e si prende il terzo posto mentre davanti a lui zarco continua a tenere la prima posizione incalzato attaccato e anche punzecchiato da rins sempre a 22 giri dalla fine rins passa zarco mentre c'è da segnalare la lenta inesorabile discesa del povero mark marquez che in questo momento è nono davanti a suo fratello che è decimo sul rettilineo del traguardo a 21 giri dalla fine praticamente entrando nel ventunesimo giro dalla fine zarco passa come bere un bicchier d'acqua rins e si riprende la prima posizione la desmo 16 va al potere come vede un rettilineo a 21 giri dalla fine c'è da segnalare il ritiro di pone spargarò con la onda ufficiale e compagno di mark marquez che per ora è sempre in nona posizione a 21 giri dalla fine zarco viene passato prima da rins e poi da quarta raro la ducati o zarco stanno soffrendo le curve del circuito porteghese magari fosse tutto in rettilineo una curva rettilineo una curva rettilineo sarebbe bello invece è tutta un rettilineo poi c'è il rettilineo dell'arrivo per intenderci fino alla curva che lì e puoi sfruttare la desmo 16 ma poi tutto 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 e lì la desmo 16 fa un attimino più fatica oppure zarco che fa più fatica con tutte queste curve a 20 giri dalla fine direi incavolandosi tantissimo il buon jack miller scivola via e finisce nella ghiaia praticamente tocca il cordolo come ha toccato il cordolino appena appena la moto gli è decollata ed è finito dall'altra parte diciamo che non è che è stata una si è capito granché praticamente ha toccato appena appena il cordoletto e brum la moto è andata magari gli espertoni di moto me lo sanno dire meglio cosa può essere successo io vi dico quello che ho visto a 19 giri dalla fine cade anche olivera che però prova a tornare in pista anche se temo che oramai la gara sia andata in effetti olivera proseguirà però è in ultima posizione e ultimo terminerà vi faccio questa tanto non è che cambia più di tanto a 18 giri dalla fine mi sfrutta un errorino di zarco ringrazia e va a prendersi il terzo posto mentre rins per ora tiene su quarta raro che è lì che lo insegue da vicino 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 a furia di provare alla fine quarta raro passa a rins e adesso con pista libera potrà provare ad andare in fuga magari aumentando anche un po il ritmo che per ora non è che era ultra veloce ma vediamo la classifica 15 giri dalla fine cioè quasi a due terzi di 15 su 25 tre quinti di gara primo quarta raro secondo rins terzo mir quarto zarco quinto morbidelli sesto binder settimo bagnaia ottavo a lei se spargarò nono mar marquez decimo ales mark che probabilmente vorrà fargli da scudiero gli dice ti difendo io così io arrivo decimo e tu sei tranquillo al nonno posto nessuno ti rompe le patole perché è lì dietro da un pacco di tempo a 12 giri dalla fine c'è da segnalare il solpasso fraterno di rossi su marini che gli vale l'undicesima posizione vedremo se il fratello lo sorpasserà o accetterà per oggi la gerarchia a 11 giri dalla fine zarco sul rettilineo del traguardo si riprende la terza posizione su mir quando la desmo 16 vede strada dritta ne approfitta e non ce n'è per nessuno c'è poco da fare sempre a 11 giri alla fine ahimè c'è da segnalare una cosa triste o divertente a secondo dei punti di vista a secondo dei tifosi se sono dei tifosi di questo pilota saranno tristi se sono dei detrattori di questo pilota saranno felici e godranno come ricci fa anche rima la caduta ahimè di valentino rossi che era undicesimo in undicesima posizione una scivolata classicissima di quelle che si vedono purtroppo spesso a nove giri dalla fine il buon pecco passa il morbido e si prende la quinta posizione e adesso andrà a caccia di mir e magari anche del podio intanto quarta raro non non è ancora riuscito a scappare non è sempre lì che c'ha il simpaticone sempre vicino vicino incredibile a sette giri dalla fine prima bagnaia passa mir per la quarta posizione e poi rinschera lì appunto bello vicino vicino appiccicato non lo lasciava scappare a quarta raro anche se quarta raro a decimini a centesimini riusciva sempre a mettere qualcosina davanti poi l'altro gli rispondeva gli rirecuperava dicevamo miri sbutta via la gara scivolando anche se prova a ripartire ma gara andata e poi decide di lasciar perdere perché la moto ormai è caput un secondo posto proprio buttato via e va bene intanto a sei giri dalla fine il buon pecco si prende anche il secondo posto ma è a me a più di quattro secondi di distacco da quarta raro a sei giri più o meno dalla fine tra l'altro quarta raro sta andando come un missile non faccio in tempo a scrivere che il buon zarco getta via il podio scivolando anche lui malamente probabilmente il sorpasso di pecco lo ha fatto esagerare per cercare di recuperare la posizione e è scivolato via e gli altri naturalmente ringlassiano perché a cinque giri dalla fine la classifica vede quarta raro primo bagnaia è secondo mir è terzo il buon morbido è quarto bindere quinto alessi spargarò è sesto mar marquez sale in settima posizione suo fratello alessi in ottava nakagami è in nona e marini è decimo a due giri dalla fine super bagarre per il podio tra bagnaia secondo mir terzo morbidelli quarto che sono vicinissimi e tutti possono sorpassare tutti quindi due giri da cardiopalma sicuramente e invece praticamente non è successo niente si sono inseguiti tutti come dei bei biscioni no ma nessuno è riuscito neanche minimamente a provare un accenno di attacco che cosa perché comunque chi era davanti manteneva quel distacco minimo per impedire a quello dietro di poterlo attaccare quindi la classifica finale con sorpresona vede quarta raro al primo posto bagnaia è secondo mir è terzo il buon morbido è quarto bindere quinto alessi spargarò è sesto mark marquez è settimo alessi marquez è ottavo e nea bastianini che ha fatto il suo rimontone come ha fatto nell'ultimo gran premio è nono e nakagami è decimo luca marini è dodicesimo tanto così per farvelo sapere detto questo ragazzoli è stata veramente una bella gara anche se quarta raro quando ha preso il primo posto ha detto ciao io me ne vado però devo dire che dietro tra una bagarre l'altra tra un sorpasso e l'altro eccetera eccetera con le cadute che ci sono state che sono state parecchie bisogna dire che non non sono mancati i colpi di scena non sono mancati i sorpassi purtroppo non sono mancate le cadute fortunatamente senza conseguenza che è la cosa più importante ed è bisogna anche dire che mark marquez nonostante il braccio mezzo moribondo si è portato a caso un buon settimo posto che è un buon viatico per iniziare questo questo mondiale anche se con il braccino ancora così per troppo tempo mi sa che sarà dura per marquez puntare effettivamente al mondiale o va a posto e allora vedremo il marquez pesce cano coccodrillo che mette via tutti come ridere o se no è tutta una questione tra i soliti noti dello scorso anno speriamo di vedere un valentino rossi un attimino oggi era abbastanza anzi ieri perché visto che la gara è stata disputata domenica era piuttosto in bolla diciamo perché dal diciassettesimo era salito in undicesima posizione stava facendo i tempi dei primi o appena sotto i tempi dei primi appena sopra scusate 1 43 contro 1 1 39 9 quindi era lì 1 43 vicinissimo i primissimi il quartararo eccetera facevano 1 39 9 9 quindi era lì era lì era lì era lì era lì e poi è le burla giò come se dice a milan è cascato ma vera che soli il la moto gp regala sempre gioia è sempre un piacere dire un divertimento vederla è un piacere raccontarvela ci vediamo naturalmente nei prossimi video io ho già visto 34 35 giri anzi 36 giri della formula 1 finirò di vederli nella giornata di lunedì perché adesso sono le 6 del mattino non sono ancora andato a letto me ne vado a letto e poi dopo oggi pomeriggio finisco il gran premio vi faccio le schedine bollettine del gigione perché ci sono le partite infrasettimanali di quasi tutti i campionati c'è il campionato spagnolo c'è il campionato italiano mi sembra ci sia il campionato inglese tre partite di recupero e mi sembra ci sia il campionato tedesco e non quello francese o c'è quello francese non quello tedesco quindi c'è quello tedesco quello spagnolo giocano di mercoledì quindi posso farlo con calma c'è un po' di roba vi ricordo questa sera la diretta col gigione come sempre 21 e 30 22 stavolta sarete sul mio canale direttamente non ho collaborazioni da fare e niente vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao